Eccoci qua, bentornati ragazzi, nuovo episodio del podcast, oggi parliamo di cose un po' diverse dal solito, oggi parliamo di vitamina D e forza e soprattutto se questa roba qua ci può interessare per noi che ci occupiamo di peso e allenamento. Allora, perché parlo di questa roba qua? Parlo di questa roba qua perché è l'argomento della mia tesi, io qua mi sono messo giù due appunti perché sennò non mi ricorderò mai tutti gli anni, le date, le robe perfette, quindi mi sono segnato giù due cose, portate pazienza, è un po' condensato perché il discorso sarebbe abbastanza lungo. L'idea è quella di fare una panoramica di quello che è il mio argomento di tesi di laurea, mi sono laureato l'altro giorno in scienza della nutrizione, colgo un po' l'occasione per divulgare quello che è stato l'argomento di tesi che secondo me può essere utile anche a chi si interessa solo di allenamento. L'idea è di parlare di quella che è la letteratura, i dati, tutti gli indizi vari che abbiamo sull'utilità o meno della vitamina D per migliorare le performance di forza. Prima di partire in questo discorso qui, classiche e marchete di sempre, allora vi ricordo che se vi interessano questi argomenti, se vi interessano le cose di cui parlo anche qui nel podcast, trovate sul mio sito calabrettasimone.it, in alto a destra c'è un menu, cliccate sulla sezione blog, sulla sezione blog ci sono tutti gli articoli che ho pubblicato, sono quasi 60 mi pare articoli o giù di lì, sono tutti gratuiti, senza pubblicità, senza niente, trovate un sacco di queste cose gratuite sul mio blog. Allo stesso tempo, sempre sul mio sito calabrettasimone.it, se invece di cliccare sul blog e cliccate su servizi, lì sotto ci sono tutte le informazioni sui vari servizi che offro e sono consulenza di vario tipo, consulenza su infortuni, anche a distanza videochiamata se vi serve una mano per capire, per gestire meglio gli infortuni, c'è questo servizio disponibile. Per quanto riguarda la programmazione dell'allenamento, faccio anche un corso in videochiamata a persona su appuntamento, quindi io e te ci mettiamo d'accordo, fissiamo delle date, videochiamata uno a uno, ci sono delle lezioni private sulla programmazione dell'allenamento e della forza personalizzate sul soggetto, si può farlo su appuntamento e secondo me a un prezzo veramente conveniente per quello che offro, date un'occhiata perché questa cosa qui probabilmente non resterà per tanto tempo ancora disponibile perché per me richiede molto tempo e lavoro. Trovate tutti i dettagli, i costi eccetera sul sito, schede di allenamento, coaching online, tutto quanto c'è scritto lì e un'altra cosa, per chi lo vede da YouTube, questo libro che ho pubblicato non tanto tempo fa, lo mettiamo qua a qualche parte così lo vedete, se si vede. Il libro si richiama Powerlifting dalla teoria alla pratica, lo trovate su Amazon, parlo principalmente di programmazione, di programmazione dell'allenamento, non solo ma principalmente e non è solo di powerlifting, è in generale l'allenamento della forza, però chiaramente è molto molto incentrato sul powerlifting. su powerlifting, 19€ su Amazon, metto il link in descrizione all'episodio per chi fosse interessato. Ultima cosa, se vi interessa roba di attrezzatura, di powerlifting, date un'occhiata al sito powergear.it, c'è la possibilità di avere un piccolo sconto, se utilizzate il codice calabrito avete un'aggiavolazione sull'ordine che fate, date un'occhiata al sito powerlifting.it. Basta, fine, giuro. Partiamo con l'argomento, allora l'argomento è vitamina D e forza. Io sono partito dal fatto che molte aziende, molti ads, chiamiamoli così, pubblicitari, parlano di vitamina D come un sicuro, garantito, integratore per migliorare le performance di forza, massimale, dando per scontato forza massimale o submassimale, quindi roba che interessa chi fa pesi. Anche su molti libri, anche libri di un certo livello, anche roba accademica, si trova tra le funzioni della vitamina D il miglioramento o comunque un ruolo nella forza muscolare, nell'ipertrofia, eccetera. E sono rimasto sballordito del fatto che si dà per scontato che sia sicuro così, non c'è dubbio, funziona, è ovvio c'è perché per tutta una serie di meccanismi biologici, sembrerebbe ovvio che la vitamina D possa migliorare le performance, perciò il ragionamento che tendenzialmente si fa è se io ho una carenza o i miei livelli non sono ottimali, correggendoli con un integratore probabilmente mi posso aspettare un miglioramento di forza. Questa è la base di partenza che però presenta tutta una serie di limitazioni come spesso succede in questi argomenti, cioè non è che basta aggiungere da fuori roba e correggere, correggere, carenze e puff magia si diventa super. Non è sempre così o perlomeno in tanti casi si è rivelato poi non essere così. Ora il punto di partenza, adesso mi metto sotto mano due cose perché se no andare a braccio su un argomento lungo così diventa un casino. Il punto di partenza è perché e per come la vitamina D dovrebbe migliorare le performance muscolari. Allora non entrerò nei dettagli chiamiamoli chimici di com'è la vitamina D, la formativa non attiva, cioè chi se ne frega questa roba qua è noiosissima non gliene frega niente a nessuno, saltiamola. Se vi interessano i dettagli, a parte che il web è pieno, qualsiasi libro è pieno, eventualmente se mi chiedete, mi donate un messaggio da me qualcosa e vi giro anche il materiale se vi interessa approfondire. Quindi tiriamo via tutta quella parte che è la noia mortale, andiamo direttamente al come mai e perché la vitamina D si pensa possa avere a che fare con la forza muscolare. Allora la vitamina D agisce tramite un recettore, questo recettore che si chiama VDR, è la sigla del nome del recettore della vitamina D, non è solo sull'osso, non è solo sui principali tessuti bersaglio da sempre considerati il bersaglio della vitamina D, cioè principalmente l'osso, o la regolazione della calcemia, cioè dei livelli di calcio nel sangue. Questa è in origine la funzione primaria che era stata scoperta una volta di tempo fa, si è scoperto poi nel corso degli anni che questo recettore VDR è presente in un botto di altri tessuti, in un botto di altre parti e che fa un sacco di altre cose che sono non così intuitive perché vanno mai anche ad avere a che fare con funzioni o organi molto distanti dall'azione principale, cioè la regolazione della calcemia. Ad oggi il recettore VDR è considerato ubiquitario, cioè tendenzialmente gli autori principali che si sono messi a stare a straba qua dicono che è un recettore praticamente presente ovunque, c'è dappertutto. Perciò si è studiato nel tempo, si è indagato, si è approfondito e si è visto che la vitamina D fa un sacco di altre cose. Sti argomenti qua di cui accendo probabilmente adesso sono in realtà una cosa studiata da tipo 30 anni, forse anche di più, c'è una quantità pazzesca di materiale su questo argomento e continuamente vengono fuori nuove, strambe o non così ovvie funzioni della vitamina D o comunque delle cose che la vitamina D in qualche modo più o meno direttamente regola. Mi sono segnato giù qui un dato molto curioso, circa il 3% del genoma umano è direttamente o indirettamente regolato dalla vitamina D, cioè o direttamente la vitamina D va a influenzare questa parte del genoma oppure per altre vie alla fine c'ha comunque a che fare, circa il 3% è tantissimo, il 3% di tutto il genoma è tantissimo, perciò è plausibile, è più che ragionevole pensare che qualche funzione anche a livello muscolare ci sia. La parte figa però viene fuori adesso, la parte figa è che inaspettatamente il recettore VDR non è chiaro se ci sia o meno nel muscolo, che questo è un tema abbastanza dibattuto, i dati su questo argomento qua non è che siamo proprio così concordi. Precisazione, quando io dico il muscolo è un po' un volgare per dire il miocita, in realtà il muscolo è composto di tante cose, ci sono tanti diversi tipi di cellule, quindi quando io dico muscolo è un po' scorretto dirlo, si dovrebbe parlare di miocita o no, perché il dubbio è nel miocita se ci sia il recettore, il che significa che potenzialmente potrebbe non essere nemmeno lì il recettore o comunque la vitamina D non andare direttamente lì a fare qualcosa, ma influenzare la funzione muscolare per altre vie, che ha a che fare comunque con il muscolo, esempio tutto il connettivo che c'è attorno o i legamenti o forse anche l'osso indirettamente in qualche modo influenza il miocita, potrebbe essere, c'è tutto un discorso di trasmissione di forze, di vasi, nervi, c'è mille altre cose che comunque sono influenzate la vitamina D e possono andare poi a influenzare il muscolo, però nel miocita c'è proprio la cellula muscolare, non è così chiaro se ci sia un VDR, perlomeno rispetto ad altri tessuti non è così palese, c'è su altri tessuti evidenti l'hanno trovato, l'hanno visto subito, eccetera. Nel mio cita, boh, alcuni indizi fanno pensare di sì, alcune cose indirette fanno pensare di sì, alcune no. A sto punto qualcuno direbbe, vabbè è caso chiuso, se no c'è il recettore che cazzo fa, non fa un cavolo perché per fare qualcosa deve esserci un suo recettore. Sì, più o meno, però c'è anche a dire che spesso nel corpo umano non è così unidirezionale la cosa, cioè non è per forza di cose che ci sia un'unica via, un unico modo, un recettore, la sua molecola che ci si attacca è fine, basta, e nessun'altra opzione. Può essere perché per altre vie la vitamina D influenza il muscolo anche senza avere un recettore specifico nel mio cita. Queste altre vie potrebbero essere diverse, io le ho sviscerate un attimino anche nella tesi, questioni ormonali per esempio, ci sono diversi studi che fanno vedere come la vitamina D in un qualche modo influenza i valori di alcuni ormoni anabolici, in particolare l'IGF1, in particolare l'insulina, sul testosterone boh, così così, anche qua parentesi, io da anni sentivo sta cosa, leggevo questa cosa che la vitamina D ha un ruolo nella produzione di testosterone che quindi anche una carenza di vitamina D avrebbe impattato le performance perché ecco, su questa frase qua ci sono tipo cinque passaggi dubbi e ognuno di questi cinque andrebbe dimostrato e al primo già ci sono dei problemi, perché appunto già il fatto che la vitamina D e il testosterone siano così influenzati a vicenda non è chiarissimo, non è così scontato. Quindi in breve ci sono possibili altre vie, tra cui le principali ormonali, che permetterebbero la vitamina D di influenzare la funzione muscolare, non è così chiara sta cosa, non è così sicura, ci sono tanti dubbi e dati contrastanti. Altre ipotesi sono la miostatina, cioè sembrerebbe da alcuni dati in vitro che la vitamina D possa portare all'inibizione delle miostatine, che questo indirettamente poi possa permettere una crescita muscolare maggiore, uno sviluppo di forza maggiore. Il livello di forza di queste evidenze qua è pochino. Per quanto riguarda altre possibili vie, forse indirettamente con la regolazione della calcemia tramite la vitamina D, potrebbe forse influenzare il metabolismo muscolare, perché sappiamo che c'è il calcio che è necessario, l'ione calcio per la contrazione del muscolo. A me sembrano un po' così forzate, queste cose qua, poche prove al riguardo. Però la parte figa dove noi troviamo le evidenze maggiori è la relazione tra vitamina D e forza. Cioè se noi andiamo a prendere la popolazione, esaminiamo, facciamo un po' di raccolta dati e vediamo che tendenzialmente, e questo è abbastanza vero, chi ha livelli di vitamina D più bassi è più debole. Non sempre ma spesso anche più sarcopenico. Viceversa chi ha vitamina D più alta tendenzialmente è più forte, muscolarmente ha più forza e tendenzialmente ha anche un po' più di massa muscolare. Sta roba qua è dimostratissima in tutte le salse, ci sono una quantità mostruosa di dati, c'è già da tipo 30 anni fa, e è quello che ha guidato poi il filone di ricerca, no? Perché se hai visto che cazzo c'è questa associazione forte, beh è probabile che ci sia un qualche meccanismo che influenzia uno l'altro, perché se no è difficile osservare una relazione così forte in così tante popolazioni per così tanti anni, in così tanti studi dicono la stessa cosa. Questa relazione qua, che era una parte anche dell'interesse mio della tesi, cioè vedere se effettivamente c'è, e la risposta è sì c'è, questa relazione qui è tendenzialmente più forte sui soggetti anziani e è più forte su donne e pazienti patologici, cioè persone che hanno altre problematiche, altre patologie, che sono tendenzialmente deboli in ospedale, eccetera, la relazione con la vitamina D è molto più forte, cioè loro tendenzialmente se hanno livelli di vitamina D più bassi sono anche più deboli e viceversa. Ci sono dei piccoli dati che fanno pensare che ci sia anche una relazione tra i livelli di vitamina D e la capacità di recupero post allenamento, ma c'era tipo un paio di studi con tutta una serie di problematiche che boh, quindi questa è una cosa molto molto più debole, mentre è decisamente più sicuro dire che l'associazione tra vitamina D e forza a livello di popolazione generale c'è, questo è sicuramente più facile da dire. Ora, c'è un problema di tutto questo, perché qua stiamo parlando di studi epidemiologici, cioè non c'è la prova di una causalità, qui è semplicemente osservare due robe che vanno a braccio insieme, noi prendiamo la gente, facciamo due dati, incrociamo due robe e vediamo che tendenzialmente queste due cose vanno insieme, se uno è scarso, è debole, c'è anche vitamina D più bassa e viceversa, e spesso vanno insieme e dici cazzo, quando c'è questa roba c'è anche l'altra, quando c'è quest'altro fenomeno associato c'è questo, questo non è sufficiente in nessun cavolo di modo per dimostrare che la vitamina D causa qualcosa, perché può essere benissimo, come ci sono degli altri esempi, che in questo caso la vitamina D, ma altre cose siano semplicemente associate o per il caso o per altri fattori che non c'entrano a cip o indirettamente influenzano entrambe le variabili, quindi può può esserci qualche altro fattore che fa sì che la vitamina D sia più bassa in soggetti più deboli e che dandogli vitamina D non cambia un cazzo, può essere benissimo, quindi non lo si può dire semplicemente da tutti questi studi che sono tantissimi che mostrano questa relazione qua. Questo è un primo aspetto chiare, se voi andate a prendervi le scatole degli integratori quasi sempre fanno questi giochetti qua, trovano un'associazione, ah siccome i soggetti che hanno questa roba più bassa, sono più deboli, non gli diamo il supplemento e diventerai più forte. Aspetta, può essere, spesso non è così, perché è semplicemente un'associazione, tutto da vedere, ok? Perciò quello che è stato il fulcro del mio interesse, quello su cui mi sono concentrato è la prova, testare, vedere se effettivamente prendendo persone con bassi livelli di vitamina D, gli diamo un supplemento, gli diamo un integratore, vediamo che cazzo cambia, cosa succede, cioè se migliora la forza o no in questi soggetti. Allora, c'è una montagna di roba su questo argomento qua, io adesso qui per ovvi motivi mi sono segnato giù due appunti, cercherò di andare al sodo e dire solo le cose un po' più interessanti per chi ascolta, però sappiate che per darvi una prospettiva della mole di roba, c'erano 287 studi su questo argomento qua, che io mi sono purtroppo dovuto andare a vedere, e è una roba di tipo 20-30 anni di ricerca, c'è tantissimo materiale, quindi ho fatto tutta una serie di ordini, ho messo adesso qua giù due appunti in ordine cronologico, ho separato i dati negativi e i dati positivi, cioè i dati che dicono che la vitamina D non ha fatto cambiare un cazzo o ha fatto peggiorare la performance, e ho separato i dati positivi per mettere un po' di ordine, farò due commenti sui dati principali, quelli più forti, però la cosa affascinante è che se uno da nulla prende e prende sta roba qua, scrive, cerca l'argomento, non capisci un cazzo, cioè, leggi uno studio e dice una roba, leggi quell'altro di fianco di un anno prima o di un anno dopo e dice il contrario, e siccome ce ne sono 287, non è proprio facilissimo di strecarsi su sta roba qua, perciò, e qua faccio una piccola digressione, perdonatemi, bisogna dedicarsi un pochino, bisogna perdersi un attimo di tempo, perché è un attimo prendere l'ultima review, l'ultima metanasi, guardare le conclusioni, le due righe finali, mai qualcuno bravo legge anche l'intero paper, e poi dice, no vabbè, la conclusione è, sì funziona, perfetto, il problema è risolto, abbiamo riassunto in una riga 30 anni di ricerca, oppure dice, no, non ha cambiato niente, quindi no, sta tutta roba qua della vitamina D è una sputtanata, non serve a un cazzo, calma, si fa spesso questi passaggi qua, io ce l'ho particolarmente qua, sta storia qui, perché capita spesso che persone magari si interessino ad un argomento che è solo parzialmente inerente al loro campo, alle loro competenze, quindi non so, la butto lì, senza nessuna cosa specifica, però magari uno che è, un scienze motore che si interessa di un tipo di infortunio, oppure un nutrizionista che si interessa di una roba di allenamento, oppure un medico che si interessa di l'abilitazione del ginocchio, cioè ecco, è solo parzialmente il tuo mestiere, o comunque è una visione parziale, ti interessi, fai due ricerche al volo, spari conclusioni, bianco o nero, sì o no, funziona o no, ti cura o no, è giusto o sbagliato, paf, con le ultime due righe delle conclusioni finali di l'ultima ricerca, è un attimo far puttanate queste cose qua, soprattutto quando non sei dentro il mestiere, noi oggi qua andremo un po' a vedere la mia personale visione di tutti questi dati qui, ma bisogna essere un po' dentro il mestiere per sapersi orientare, perché se no veramente vi è nessun casino, e io infatti sono convinto che ci sono altre persone che guardano gli stessi dati, le stesse cose che ho visto io, e tirano fuori conclusioni diverse, cioè alla fine chiudono il libro e dicono, secondo me è invece così, perciò c'è un certo grado di difficoltà nel mettere nel contesto questa cosa qua, e è particolarmente importante essere dentro con un piede da una parte e un piede dall'altra, cioè capire almeno un minimo di allenamento e capire almeno un minimo di nutrizione, se non si capisce un cazzo. Detto questo, partiamo con i dati negativi, mi sono fatto qua un po' una scaletta, ce ne sono abbastanza, ce ne sono abbastanza anche di positivi, nel senso che è più o meno 50-50, partendo con un ordine, adesso ci sono anche delle cose fighe di come è stata fatta la ricerca qui, perché tenetevi forte. Allora, partendo dalla prima review interessante che ho visualizzato, poi nella mia tesi in realtà ho messo dentro tutto, però qui schematizzo, è del 2010 e come purtroppo spesso cade in questo genere di studi, adesso ne parliamo, c'è stato soltanto uno studio in queste review che ha usato come test panca piana l'hut machine che press sui soggetti in esame. La quasi totalità, dopo questo ne parliamo dopo con più camera, la quasi totalità degli studi, fanno dei test di forze isometrici per la pesa, degli end grip test, stai là, stringi e vedi il numerino, fine, basta, fine dei test. E questo è un enorme problema che dopo vediamo. In queste review qui c'è fortunatamente uno studio, tra i tanti presi dentro, che considera anche panca piana l'hut machine leg press e a noi fa molto piacere perché alla fine è quello che ci interessa. Sono state somministrate 800 unità internazionali al giorno di vitamina D e i risultati sono stati che sostanzialmente la vitamina D non ha dato nessun miglioramento e addirittura in alcuni casi è controproducente. Allora, qual è la cosa figa di tutto questo? La cosa figa di tutto questo è che all'interno degli studi presi in esame ce ne sono due, che io dopo, se qualcuno interessi le fonti dettagli, li posso dare. Due di questi studi qua sono stati poi ritirati perché avevano messo dentro dei dati falsi, cioè si erano inventati delle robe per farli diventare molto più interessanti quegli studi. Nel momento di questa review nel 2010 non si sa un cazzo, io l'ho scoperto dopo andando a approfondire i discorsi e quindi le conclusioni che quest'autore dice e le dice senza, e i crunti statistici che ha fatto, li ha infatti senza sapere che due dei studi inclusi erano stati un po' magheggiati. Le criticità di, non cambiamo un cazzo, cioè diventerebbero ancora più negativi i dati se avessero tolto quei due studi là, perché quei due studi là invece trovano dei dati positivi. Le criticità quali sono? Le criticità sono, e sono comuni in molte degli studi che vedremo, che i livelli di partenza dei soggetti in esame di vitamina D erano già alti e questa porca la miseria, cioè è un problema enorme, lo ridirò più volte perché torna sempre fuori il discorso, però se l'intera cazzo di logica è devo correggere una carenza, ho la vitamina D bassa e voglio vedere se alzandola, se correggendo questa roba qua migliora la forza. Io dovrò prendere delle persone con la vitamina D bassa, giusto? Se no capiamoci, cambiamo l'ipotesi di partenza perché allora non ci stanno capendo, non è questo il razionale. Però siccome mi par di intuire da 287 casi su 287 casi di studi su questa roba qua, che l'idea di partenza era quella, perlomeno la popolazione in esame in partenza dovrebbe avere dei livelli bassini. Ecco, qua la maggior parte delle persone in esame aveva livelli di partenza già buoni. Altra precisazione fondamentale, non c'è consenso unanime da parte dei vari autori, delle letterature, delle linee guida, dell'OMS, di tutti, su cosa siano i livelli giusti, sbagliati, ottimali, subottimali, adeguati, inadeguati, insufficienza, carenze, eccetera, di vitamina D. I cat off non sono chiari, non sono stabiliti, ognuno ha le sue, ognuno ha le sue ipotesi, si mescola dentro tutto. Questo è un enormissimo problema perché se non siamo nemmeno d'accordo su dire quanto sia il livello giusto, faccio fatica a selezionare le persone in base a livello, perché secondo me magari avere, boh, spara, 50 nanomoli per litro è più che sufficiente, è giusto, va bene, non c'è nessuna carenza a questo livello, ma se qualcun altro pensa diversamente è chiaro che questo è un problema perché quando si decide poi di intervenire o di supplementare, o di decidere a che livello portare i soggetti, che cazzo si fa? Boh, però al di là di questo, la maggior parte degli autori sono d'accordo a dire che 50 nanomoli per litro non è poi così basso come il livello, ok? Perciò, visto che è pieno di gente con livelli molto più bassi, perché diamine avete preso gente che ha già i livelli alti? Punto di domanda. Secondo problema, 800 unità internazionali al giorno, anche qua non c'è consenso, ognuno dice la sua, non si sa, bla bla bla, però con altissima probabilità non cambia molto dandogli 800 unità al giorno, soprattutto in un periodo breve, soprattutto d'inverno. Quindi, se tu prendi i soggetti che partono già che non hanno una carenza, gli dai delle dosi basse e non per tanto tempo, cioè non è che ti puoi aspettare chissà che cazzo di cambiamenti, indovina un po', non è cambiato un cazzo. Queste cose che dico qui sono comuni nella maggior parte della ricerca e dopo le rivedremo con più calma. Perciò, sostanzialmente, questa prima review del 2010, e quindi mettiamo diciamo uno spartiacque, dal 2010 indietro, prove di efficacia, nì, non tante. Passando a qualche anno più dopo, velocizzando un attimino, c'è una review del 2020, carina, molto carina, che se non sbaglio è l'ultima review. Ci sono altri studi dopo, ma review è l'ultima. Questa è interessante, è molto bella, perché ha un numero di soggetti elevatissimi, ha preso dentro un botto di studi, un botto di roba, mi pare che ci fossero 54 studi presi dentro su questa review. Quindi è figa. E tra le cose belle c'è il fatto che, essendoci dentro tanti studi, tanta popolazione, ci sono anche tanti tipi di test utilizzati, grazie a Dio, grazie, grazie, grazie. Non c'è soltanto l'end grip, anche se c'è principalmente l'end grip, e oltre ai test di forza, ci sono alcuni studi con dei più o meno test di agilità e alcuni che hanno guardato anche l'ipertrofia, che è molto interessante. In breve, l'effetto sostanzialmente della vitamina D è o nullo o addirittura negativo, cioè ci sono stati dei casi in cui somministrare vitamina D ai soggetti, dargli il supplemento, ha peggiorato la forza, non l'ha migliorata, l'ha peggiorata. Però, però, perché anche qui un attimo, vediamo 2020, beh dai, è abbastanza recente, vediamo le ultime righe dello studio, cosa dicono, cambia un cazzo, addirittura peggiora, boh, vitamina D è tutta una merda, butta via. Attenzione, purtroppo, purtroppo, ci sono una serie di grossi problemi in questa review, cioè in questa review. La review è fatta benissimo, non ho niente a dire, guardo, sono gli studi inclusi nella review che hanno tutta una serie di considerazioni da farci sopra per capire meglio i risultati. Allora, partiamo con la roba che più mi ha fatto incazzare. Dei 54 studi inclusi, solo 15, alla fine del percorso di supplementazione, i soggetti avevano il valore di vitamina D, C, R, C, superiore ai 50. Non metto più l'unità di misura adesso. Cosa significa questo? Ok, non c'è consenso su quale sia il valore ideale, quale sia il valore ottimale, quale sia... però 50, siamo in tanti a pensare che non sia poi così tanto alto, ok? Cioè, non è bassissimo, non stai morendo, però probabilmente sarebbe meglio averlo un po' più alto, ok? Quindi, su 54 studi, solo 15 raggiungevano questa soglia, questo cutoff. Pochini, eh? Cioè, una bella fetta della gente, c'è la maggioranza? No. Boh, non dica finita, eh. Solo il 17% della popolazione incluso, in partenza, prima dello studio, aveva valore di vitamina D inferiore ai 50. Ecco a bestemmi, a gogo, sotto il 25, cioè quindi soggetti che prima di partire con la supplementazione avevano meno di 25 nanomoli di vitamina D per litro, erano solo il 7,6%, e sotto i 20 nessuno, zero, nada. Cosa vuol dire sta roba qua? Vuol dire che se tu dai dei supplementi con l'idea di correggere una carenza o di risolvere un problema dato da bassi livelli di vitamina D, come minimo devi prendere gente che ha bassi livelli di vitamina D e portarli ad alti livelli di vitamina D. Boh, qui la gente ce l'aveva già medio alto i valori, o comunque pochissimi li avevano basso, e soprattutto nessuno aveva molto basso, che era quello più interessante da vedere. Secondo problema, la maggioranza di sta gente qua, a fine supplementazione, c'aveva ancora i livelli bassi! Non è cambiato un cavolo! Perciò, l'intera logica di tutto questo manca. Cioè, se tu vuoi vedere se sta roba di supplementazione fa qualcosa, non puoi impostarmela così, ok? Adesso qua io non voglio accusare nessuno direttamente, però, ragazzi, 54 studi, decenni di ricerca, non è che uno si è inventato ieri per primo di fare sta roba qua. Quello che l'ha fatto per ultimo avrà letto quello che hanno fatto prima gli altri, avrà già una mezza idea di cosa cavolo succede. Cioè, ci penseranno un attimino prima. Trovare gente con bassi livelli di vitamina D è facilissimo, ce l'abbiamo quasi tutti i bassi livelli di vitamina D. Cioè, è un attimo, non è che siano persone rare, difficili da reclutare, ce ne sono tantissime. Quindi, questo impatta tantissimo sulle conclusioni. Adesso, se tu leggi le conclusioni, dici, va bene, la vitamina D non ha sostanzialmente fatto un cazzo. E è vero, perché i dati dicono così, però tenete a mente che non è stato impostato un percorso che va veramente a testarla a queste ipotesi. Cioè, se hanno dato il supplemento, poi va bene, i dosaggi erano variabilissimi, eh. Il fatto che la maggior parte delle persone non hanno superato i 50 a fine studio, significa che i dosaggi erano bassi. Adesso generalizzo, perché poi ogni singolo studio aveva il suo dosaggio. Però, cioè, o rivalutiamo tutto l'intero razionale dietro sta cosa qua, oppure dobbiamo prendere con estrema cautela dei risultati, perché non ha molto senso impostata così. E poi, vabbè, l'eterno problema dei test utilizzati, nel senso che, per quanto riguarda la forza, principalmente utilizzavano i grip test isometrici, usavano degli hand grip classici. Classici, neanche tanto classici in realtà, perché sono quelli che hanno in laboratorio, quelli più pratici da usare, vabbè. Gli mettono lì, gli dici, stringi qua un attimo, guardo nel numero, buon ciao, arrivederci. Dopo, ne parlo, ne parlo dopo mai dei dettagli qua. Quindi, anche i test utilizzati... Per quanto riguarda, invece, i test di agilità, erano i test che agilità è un po' un po' così, cioè, sono i test della camminata sui sei minuti, i test di equilibrio, ste cagate qua, perché le fan fare a mia nonna, cioè, le fan fare a persone anziane, patologiche, la maggior parte sono queste persone in esame in questi studi. Sono anziani, sono persone con altre problematiche, con altre patologie. Quindi, la forza che hanno testato lì, insomma, da prendere col suo contesto, le agilità, le abilità varie che hanno testato, sono da prendere con le pinze. Adesso, anche ipotizzando che questi qua avessero trovato chissà quale effetto fantastico della vitamina D. Cioè, tenete a mente che un conto è prendere una donna di 80 anni in menopausa, con altre 5 malattie, a letto, in ospedale, dargli un po' di vitamina D e poi vedere quanto tempo ci mette a fare il giro della stanza a piedi camminando. E direi, cazzo, è migliorata di un 20%. Ergo, il giocatore di fotolamericano di 20 anni in forma sanissimo e grosso così, migliorerà di un 20% ai test che fa, ma neanche per sogno, cioè sono due robe che non c'entrano niente. Queste cose qui, ripeto, si capiscono andando a vedere bene i dettagli, perché sennò non ci si capisce un cavolo. Dopo di questa review del 2020, che è l'ultima che ha trovato dati negativi sulla vitamina D, e è l'ultima review, non studio, l'ultima review, ci sono un altro paio di studi che riporto qua, ce ne sono di più di due, ne ho messi sulla tesi, ma qui ne porto due perché sono carini, in particolare uno del 2021 che è fatto bene, questo mi è piaciuto molto, peccato che ce ne siano veramente due o tre in croce di studi fatti così. Questo studio è su tre mesi, hanno preso tre mesi soggetti sani, giovani, gli hanno dato 8.000 unità al giorno di vitamina D, quindi questo è un dosaggio alto, dove io mi aspetto un cambiamento, e infatti così è stato, e hanno usato dei test un minimo un po' più di buon cazzo, di senso, chest press e raw machine. Praticamente hanno preso un gruppo, gli hanno dato vitamina D, un gruppo gli hanno dato placebo, tutti quanti si sono allenati e alla fine dei tre mesi li hanno ritestati per vedere se quelli che oltre all'allenamento hanno preso vitamina D hanno avuto un miglioramento maggiore. La cosa curiosa è che, nel ruolo di tamburi, quelli che hanno preso la vitamina D sono migliorati meno di quelli del placebo, quindi purtroppo non c'è stato un benefitto, ma c'è stato un peggioramento. Qua si aprono mille ipotesi, per brevità e per non star qui due giorni a parlarne, allora una delle ipotesi più curiose e interessanti è il fatto che forse il dosaggio era troppo alto e forse questo dopo un certo punto diventa controproducente, che è facile che sia così perché funziona così su mille cose, cioè come tutte le robe c'è la giusta dose, troppo poco funziona meno, troppo tanto o non cambia un cazzo o stai peggio. A fine dello studio i soggetti avevano in media un valore serie C di vitamina D di 142, cioè 142 è molto alto, non è altissimo da patologia ma è alto, è difficile avere valori così alti. Sono stati ipotizzate tutta una serie di cose che fanno pensare che forse è superata una certa soglia o quando c'è sovraesposizione a vitamina D ci sia una sottoregolazione dei recettori, ci sia un'inibizione di qualche tipo e quindi si abbia paradossalmente un effetto negativo per quello. Boh va a saperlo per tutte ipotesi, poche poche prove a riguardo, alcuni altri autori commentando questo studio qui hanno detto che siccome ha visto che i soggetti non erano tantissimi eccetera, potrebbe anche essere questioni statistiche che è un caso che bisognerebbe rivedere. Vabbè, fatto sta che comunque questo è uno studio interessante secondo me perché era fatto bene, uno dei pochissimi fatti con un po' di logica che riguarda quello che ci interessa e che la forza l'ha testata per davvero. Poi c'è uno studio del 2022, questo è quello che mi ha fatto bestimare di più di tutto, sul basket, sui giocatori di prima divisione di basket, gli hanno dato 4.000 unità al giorno per tre mesi e hanno valutato la densità ossea, quelle cose lì che vabbè chi se ne frega, ipertrofia e la forza tramite il vertical jump e basta. Ovviamente non hanno trovato nessun risultato e qua io ho un po' di cose da dire e le cose da dire sono che principalmente non sono d'accordo su come sono state impostate le cose qui, è un enorme spreco di tempo, risorse e soprattutto è molto fraintendibile quello che si legge dopo dalla discussione e dalle conclusioni degli autori. Allora, i problemi sono svariati di come sono state impostate le cose. primo, c'erano solo 18 persone, quindi vabbè campione piccolo, vabbè. 4.000 unità al giorno sono poche, ok? Sono poche, è molto facile che non cambia un cazzo con 4.000 unità al giorno, a meno che non sia estate, a meno che non sia per tantissimo tempo, a meno che c'è una serie di fattori però siccome ci sono già, prima di questo studio del 2022 c'erano già tipo 250 di altri studi che hanno usato dosaggi simili e si vedeva già che non cambiamo una cippa di niente, anche senza leggere le conclusioni ero abbastanza convinto di trovare poco o nullo cambiamento di livelli di vitamina D ed infatti non è cambiato una cippa di niente perché l'enorme grosso altro problema di questo studio è che alla fine dei tre mesi i soggetti avevano praticamente gli stessi identici valori di vitamina D dell'inizio studio, che erano 35 la media, tra i due gruppi, tra prima e dopo i tre gruppi non cambiava niente, cioè non è cambiato un cazzo, è come se non avessi fatto niente a livello di vitamina D, perciò se io do un supplemento e non cambia un cazzo di quel supplemento che sto andando, ragazzi come cazzo posso pensare di trovare qualcosa di diverso? Per carità non è detto perché può essere, però l'intera logica come ho già detto altre volte era alzare questi livelli, partire da bassi e alzarli e vedere se succede qualcosa, se io do una dose troppo bassa per troppo poco tempo e i livelli non cambiano, cioè è chiaro che ci saranno una serie di problemi dopo sul capire perché e per come, va bene. 35 tra l'altro è un livello neanche così basso in partenza ma meglio di quello che si trova di solito in ricerca, perché 35 è comunque secondo me e secondo molti autori bassino, quindi ci sta a prendere soggetti col 35 e portarli più alti, sarebbe stato molto meglio, molto più bello e probabilmente molto anche più interessante prendere soggetti con valori più bassi perché non è, ripeto, non c'è consenso, però tendenzialmente il 30 è il cut off considerato da tanti, cioè sotto i 30 c'è una carenza, ma non sono tutti d'accordo su questa roba qua, quindi 35 a seconda dei modi di interpretare questa roba qua qualcuno potrebbe anche dire, ma no 35 va bene, non è troppo basso, quindi sì, non era forse la popolazione ideale, però vabbè questi erano i valori che avevano questi giocatori qua e amen, però che alla fine del trattamento abbiano ancora 35, cioè identico come cazzo sono partiti, c'è un problema, vuol dire che il dosaggio è stato troppo basso. Altra cosa, come cavolo ti salta in mente di testare la forza massimale con un vertical jump? Cioè, tutte le cose che l'umanità ha inventato, tutti gli esercizi che esistono, questi qua hanno usato il vertical jump, sui giocatori di basket capisco la logica, però per migliorare la forza, cioè lo studio mi parla di forza, forza massimale, capiamoci, allora a me sta bene che tu vada a testare il vertical jump, perché sui giocatori di basket è quello che gli interessa. Allora, a parte che dopo tre mesi sui giocatori di prima divisione è ovvio che non cambia un cazzo, ma non cambiava un cazzo neanche se li avessi fatto fare chissà che allenamenti, cioè, cosa cazzo ti vuoi aspettare che cambi? Boh, primo. Secondo, il vertical jump, come tutti quelli con due neuroni sanno, è un test che dipende da mille cose, cioè non è un test di forza, è un test di salto. Il salto dipende da mille cose, dipende da come sei coordinato, dalla velocità, dal momento, dal giorno e dall'orario in cui fai i test, parentesi, c'ho scritto un articolo su questa roba qua, l'ho trovato sul mio blog, già farlo la mattina e il pomeriggio cambiano i risultati, eh. Qui gli autori manco si sono degnati di preoccuparsi di scrivere a che ora, quando, come, zero. Abbiamo fatto un test di salto così, va bene. Quindi la forza non cambia. Ma dove? Ma come? Ma cosa? E ovviamente è un test che non va a testare la forza massimale, va a testare tante altre cose. Chiamala potenza, chiamala forza reattiva elastica, chiamala come vuoi. Però non è un test di forza massimale, ma neanche sub-massimale. Bene. Perciò, perciò, ok, uno può pensare se la vitamina D migliora la forza massimale. La forza massimale è, perlomeno in parte, legata in molti casi alla forza, chiamiamola, esposiva o comunque alla prestazione di salto verticale. Quindi, magari, mi sarei aspettato un miglioramento anche nel salto verticale. Però capite che se nella migliore dell'ipotesi la vitamina D migliora un pochino la forza massimale, poi da lì la forza massimale è un po' collegata alla forza esposiva, che la forza esposiva è una parte di quello che determina il risultato nel vertical jump, Cioè, capite che alla fine diventa niente, no? Cioè, ogni volta c'è una barriera, ogni volta c'è un filtraggio, alla fine arriva un cazzo. Boh, infatti non è cambiato un cazzo. Ma soprattutto non mi parli di vitamina D come supplemento per migliorare la forza massimale, o l'ipertrofia o altre cose, se poi non è quello che testi, cioè io... Porca miseria, cioè devo... È come dire, boh, prendiamo una bilancia e invece di pesare le robe uso la bilancia per vedere la lunghezza, cioè la bilancia non funziona, cioè non è uno strumento adeguato per misurare le lunghezze, ma misura il peso, ecco qua stessa roba. Dopo, altra cosa interessante che effettivamente aveva un senso valutare era l'ipertrofia, anche se, spoiler, i metodi utilizzati per la composizione del corporeo su questo sito vi fanno schifo, non ne parlo oggi perché è un discorso troppo lungo, però per capirci il margine di errore dello strumento è tipo il triplo, il quadruplo di quello che è ottimistico aspettarsi come cambiamento della composizione del corporeo. Perciò, cioè se io ho la cordella metrica per misurare, se cambia qualche centimetro la lunghezza, è chiaro che cazzo voglio misurare. Qua più o meno hanno fatto la stessa cosa perché usano strumentazioni che è del tutto inadeguata. Vabbè, comunque secondo me, e secondo anche altri autori, probabilmente non sarebbe cambiato un cazzo lo stesso. Allora, siccome io ero un po' perplesso come hanno condotto e hanno fatto e impostato questo studio, ho contattato gli autori, sono andato in cerca, li ho brincati e gli ho detto, ascolta un attimo, ma fatemi capire, perché non capisco, nel 2022 come mai avete scelto solo 4.000 unità quando ci sono 264 studi che dicono che con 4.000 unità probabilmente la vitamina D non cambia un cazzo. E loro mi hanno detto che pensano, parafraso un pochino eh, mi hanno risposto che questo era quello che secondo loro era adeguato fare e che per fare dosaggi superiori, ma può dipendere anche da stato a stato perché ci sono regolazioni, regolamentazioni diverse sulla vitamina D da stato a stato. Però sarebbe stato un po' più elaborato e complesso dare dosaggi più alti perché serve supervisione medica, perché sopra un certo dosaggio è considerato prescrizione di un farmaco, eccetera, e che mi hanno tirato fuori delle linee guida del tempo del giurassico che dicevano che 4.000 era la dose massima da dare quando ci sono, ripeto, oltre 200 studi che questa cosa l'hanno vista, eccetera, e quindi hanno deciso di dare 4.000 unità, non so quanto consapevolmente del fatto che non sarebbe cambiato una cippa, il fatto sta che non è cambiato una cippa a livelli di dosaggio sciarico della vitamina D, non era cambiato niente, ovviamente. Parentesi, questo è nel 2022 sta roba, già ben prima ci sono studi che hanno mostrato che è perfettamente sicuro e non muore nessuno anche con dosaggi molto più alti di 4.000 unità al giorno, anche per tempi molto lunghi. Quindi, non lo so, lascio a voi le conclusioni. Altra cosa che ho chiesto è scusate un attimo, signori, ma come mai avete scelto il vertical jump per testare la forza? E la risposta è stata eh sì, era un po' scomodo, un po' un casino, non sapevamo ben come fare, alla fine questo ci sembrava il test più adeguato. E io ho fatto ulteriori domande per chiedere, a un certo punto non mi hanno più risposto perché, vabbè, gli ero rotto i coglioni, però sostanzialmente non mi hanno risposto sul perché hanno usato il vertical jump. Perciò l'ipotesi che ho io è che hanno scelto il vertical jump perché non capiscono un cazzo di allenamento e perché non avevano la voglia o il tempo o il personale adeguatamente formato per impostare lo studio in maniera diversa. Probabilmente avevano anche certe scadenze, certe urgenze, sono andati di corsa e hanno detto beh dai giocatore di basket vertical jump. Poi sul titolo però mettiamo forza, no vertical jump. Allora io qua ovviamente, senza fare altro sarcasmo, è chiaro che ci sono dei problemi qua. Io l'ho scritto la mail, sulla tesi l'ho proprio esplicitamente scritto, c'è un problema, uno dei problemi più grossi è che queste persone non sono formate in ambito allenamento. Fai ricerca sull'allenamento, ma di allenamento non sei formato, ma non sai neanche le basi. Se vi andate a leggere questo studio qua e vi guardate sotto sulla discussione le considerazioni che fanno gli autori sul spiegare il perché di questi risultati, cioè ragazzi c'è da mettersi le mani sui capelli, questi qui non sa neanche da che parte girarsi. Io ripeto, non voglio accusare nessuno, però è evidente che queste persone che sono dedicate a questo tipo di studi non sono formate in ambito allenamento e quindi non si sono neanche accorti di una serie di problematiche. hanno fatto tutta una serie di considerazioni di ipotesi sul perché la forza di questo si è collegata all'A, perché la vitamina D non influenzi, discorsi su fibre e reclutamento che al giorno 1 di scienze motorie o prendi un libro a caso di qualsiasi sull'allenamento, la prima pagina, leggi roba base di fisiologia muscolare e già capisci che ci sono degli errori enormi su quello che questi autori stavano dicendo. Vi dirò, questo era il caso più palese di questo studio del 2022, ma questo tipo di problematiche sono diffusissime all'interno di questi studi. Io non vi nascondo un certo grado di delusione nel vedere questi dati perché dico, ragazzi, almeno uno, siete un team di persone che fanno studio, non è che uno si inventa così, siete un team di persone. Pescatele uno in mezzo a voi che di allenamento qualcosa ne capisca. Uno, cioè non necessariamente un scienze motorie, però uno che magari, non so, un preparatore atletico, un allenatore, uno che qualcosa sappia, così quando vi dite, bella idea, testiamo la forza massimale con lo squat jump, questo qui alzi la mano e dica, sapete che forse possiamo far meglio. Ecco, altra cosa, parentesi, perché immagino le obiezioni a questi miei discorsi. Ci sarà chi dice, però i fondi, i costi non è che potevano portare lì, avevano poco spazio. Io gliel'ho chiesto anche questo, gliel'ho anche chiesto anche questo, non è vero. Ovvio che ci sono problemi di fondi, però non stavo parlando di portarmi nel palazzetto dove questi giocatori di basket fanno allenamento, portarla a chissà che cazzo di attrezzature. Perché se tu hai fondi zero, e soldi zero, e spazio zero, ti basta avere due metri quadrati, ok? E a costo zero ci sono tipo dieci test che puoi fargli, gratuiti, senza rischiare di ammazzare nessuno, su cose che sono sicuramente più interessanti da osservare e che hanno qualche legame più forte con la forza. Se poi hai budget tipo 30 euro, puoi farne altre 40 di opzioni, ok? Quindi, se uno queste cose qua non le ha dette, non le ha pensate, e quando te lo domando esplicitamente, non mi rispondi cose così, significa che non saperi nemmeno dell'esistenza di queste possibilità. e quindi denota un certo tipo di mancanza di conoscenze in questo ambito qua. Va bene. Passiamo invece adesso ai dati positivi su quello che c'è in letteratura che mostra invece un beneficio del supplemento di vitamina D sulla forza. Anche qua vado un po' riassumendo quelli che sono i punti principali. Allora, la prima review è del 2011, adesso vado per review o meta-analisi. La prima review è del 2011. Ci sono dei limitati effetti positivi se i soggetti che hanno ricevuto il supplemento partono da un valore di vitamina D cerco inferiore ai 25. Cioè, se il punto di partenza è molto basso, e questo è quello che vi dicevo anche prima, no? Cioè, questo è del 2011, ragazzi, 2011. Questi qua del prima, 2020, la maggior parte dei soggetti... no, l'ultimo, quello del prima, del 2020, la maggior parte dei soggetti non erano a questi livelli qua perciò vi dico, nel 2022 lo sapevi già che se i soggetti sono sotto una certa soglia è più facile aspettarsi dei cambiamenti. però purtroppo, non si sa come mai, hanno scelto comunque di fare in quel modo là. Tornando ai dati positivi e alla review del 2011 è curioso dire e ricordarsi che, appunto, alcuni di questi dati positivi sono stati poi ritirati perché mi pare tre studi qua, fossero di Sato, due di Sato e mi pare un altro autore vado a memoria, non me li ricordo bene perché erano proprio falsi, cioè avevano proprio cambiato, modificato i dati e questo aveva tra l'altro un peso abbastanza grosso sul bilancio finale di queste review che già in partenza trovava dei dati non così tanto forti quando poi togliamo quelli che in realtà erano falsi diciamo che da sola questa review non ci dice granché sull'efficacia cioè è più verso il no che il sì qualche anno dopo, review 2014 su 30 studi, questa ha un peso molto più grande 5.615 soggetti purtroppo, anche qua, grande utilizzo della forza della presa l'hand grip strength con delle isometrie la presa non è cambiata il test della presa dopo, cioè su 5.615 soggetti non hanno visto grandi miglioramenti della forza della presa con la vitamina D mentre c'è stato un leggero miglioramento della forza delle gambe anche qua di solito usano o isometria la leg extension a diversi angoli di solito ne scelgono uno e si tengono quello oppure c'era proprio le leg extension c'è stato un piccolo miglioramento su questo review appunto del 2014 poca roba è, poca roba e anche qui già un campanello d'allarme ma se la vitamina D dovrà cioè ipotizziamo che la vitamina D a livello sistemico per qualche meccanismo migliori la forza come mai migliora su una roba e non sull'altra e come mai su alcuni studi non so, migliora la presa sull'altro studi invece la presa no ma migliora le gambe e viceversa cioè questa è una cosa che già dice wow aspetta un attimo c'è qualcosa che non quadra andando avanti un po' col tempo meta analisi del 2015 questa è curiosa questa è più interessante per noi perché hanno usato è uno di pochissimi pochissimi casi negli studi inclusi ce n'era anche uno in cui hanno utilizzato squat punk e leg press come test grazie erano principalmente anzi mi pare che fosse esclusivamente soggetti giovani sani non dico sportivi ma loro li considerano moderatamente attivi ma la cosa che mi ha mandato fuori di testa tra le tante la cosa che mi ha fatto impazzire è che alla fine di molti di questi studi alla fine cioè finisci il periodo di supplementazione non hanno testato i valori di vitamina D allora allora ritornando a qual è la logica di tutto questo cioè il perché ti alti la mattina e fai questa roba qua la logica è ho livelli bassi di vitamina D do un supplemento a un dosaggio che penso che possa migliorare le cose dopo un x periodo di tempo mi controllo per vedere se la correzione cioè se è stata una correzione o perlomeno un miglioramento ma allora la maggior parte della gente prende livelli troppo alti non da dosaggi adeguati e vabbè qui siamo a un livello ancora più alto non mi preoccupo neanche di misurare se poi il cavolo di livello di vitamina D sia cambiato non lo posso sapere e quindi io da fuori che leggo i dati dico boh sarà aumentato penso di sì penso di no non lo so non me l'hanno scritto non me l'hanno scritto perché in realtà ha un costo è misurare fare l'analisi del sangue ha un costo però porca miseria cioè è uno step importantissimo dello studio questo cioè se non me lo misuri i livelli di vitamina D dopo io come cazzo faccio a capire e quindi vabbè e quindi vabbè non ci permette di prendere tante altre informazioni da qua se dobbiamo capire un po' stimare però questo secondo me è uno studio cioè questa meta analisi del 2015 è utile per noi per lo scopo di questa tesi perché è una delle pochissime volte in cui c'erano soggetti sani giovani e hanno utilizzato dei test più rappresentativi di quello che ci interessa quindi squat, punk, leg press eccetera tra l'altro scopo di bilanciare libero e erano positivi cioè in buona parte i dati hanno mostrato un miglioramento piccolo si parla sempre di pochissima roba e mai solo su alcune cose però c'è stato un miglioramento meta analisi del 2019 anche questa molto interessante io adesso ho estrapolato le cose più interessanti per il podcast in realtà c'è molta più altra roba nel 2019 atleti giovani questi erano tutti sportivi e per sportivi intendo proprio facciamo discipline sportive a livello agonistico di vari sport judo baschi c'era un po' di tutto bello, carino hanno utilizzato diversi tipi di test c'erano anche test sensati per la forza non era soltanto la misurazione della forza della presa e i risultati sono che la forza delle gambe è migliorata un pochino e vi faccio notare che sì questo avvio del 2019 e quello del 2014 la forza delle gambe migliorava un pochino ma se noi andiamo dietro a vederci i dati negativi ci sono diversi dati che mostrano invece o miglioramento zero o addirittura un peggioramento della forza delle gambe su altri studi quindi va bene c'è un po' da capirsi con sta roba qua tenete a mente che nel 2019 si sapeva già che precedenti studi erano stati manipolati alcuni dati quindi sono stati esclusi dicevo in questo natalize 2019 la forza delle gambe dell'overbody è migliorata un pochino mentre i test di potenza che hanno utilizzato che anche qua c'è qualcosa da dire ma comunque meglio degli altri studi non hanno visto cambiamenti e questo secondo me ecco questo secondo me è più facile da dire con un certo livello di sicurezza la vitamina D a livello di potenza o prestazioni di forza esposiva di quel genere di cose lì non si è praticamente mai visto un miglioramento mai in 30 anni di letteratura è stato testato poche volte è vero però praticamente sempre si vede che non cambia un cazzo quindi lì è più facile dire con sicurezza che non ti aspetti di vedere miglioramenti sarebbe curioso capire come mai magari migliora la forza delle gambe perché ci sono dei dati che mostrano anche massimale ma non migliorano la potenza abbiamo detto prima già qualcosa delle gambe forza potenza però su alcuni di questi soggetti qui che sono non sono fenomeni non sono sportivi soprattutto indietro negli anni mi sarei aspettato che un soggetto scarso debole sarcopenico eccetera migliora un po' la forza massimale delle gambe massimale migliora un po' la forza delle gambe e sale qualcosina anche la potenza su qualche tipo di test però non si è mai visto questa è una cosa che onestamente non ho una risposta cioè non ho una spiegazione ecco qua a proposito di spiegazioni scusate un attimo la pausa a proposito di spiegazioni sul perché non c'è stato un miglioramento della potenza ma c'è stato invece un miglioramento della forza delle gambe anche qua ho tirato sette otto bestemmi sicuro quando ho letto la discussione alla fine di questa meta analisi perché gli autori hanno fatto tutta una serie di ipotesi di spiegazioni che cioè non stanno in cielo non in terra io con tutta l'educazione del mondo e la diplomazia di chi vuole evitare una guerra mondiale ho scritto anche qua dopo quando ho pubblicato la tesi ho messo giù in maniera molto educata e diplomatica ma di fondo stavo dicendo oh ragazzi ma ma di che cavolo state parlando ma siete sicuri di capirne qualcosa perché cioè ci mancano proprio le basi molti di questi dati molti di questi ricercatori vanno a testare roba di sport di prestazione sportiva per qualche grazia divina ogni tanto qualcuno dice ma facciamo qualcos'altro al test della presa però poi quando leggi eccetera capisci che c'è proprio un problema di base che queste persone non sono formate sull'allenamento e si leggono delle castronerie folli delle cose che non stanno in cielo in terra ultima meta-analisi del 2022 che questi sono i più recenti ultimissimi dati su vitamina D e forza donne in menopausa c'è stato un piccolo miglioramento solo sulla forza della presa la presa è un test che è utilizzato spesso con gli anziani che è il time up and go fanno camminare prendono il tempo si alzano dalla sedia cioè va bene che lo chiamano test di forza addirittura alcuni qua mmm che forza i dati sono così così cioè sì siccome c'è una proporzione abbastanza grande in esame fai due incroci c'è effettivamente un piccolo miglioramento quindi sulla conclusione hanno potuto scrivere che il supplemento ha migliorato la forza poi appunto per vedere la forza la forza della presa su menona cioè queste qua erano quasi tutte donne in menopausa di una certa età la forza era alzarsi dalla sedia a fare il giro e tornare seduti e prendere il tempo quindi sì vale quello che vale ora alla luce di ste robe qua la cosa che a me piace precisare l'ho già detto un pochino eh l'ho già detto un pochino però io sulla tesi ci ho dedicato delle pagine un capitolo specifico è il discorso della 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 forza della presa principalmente ok allora i test della presa sono dei test di merda lo dico i test della presa sono dei test di merda e sono ancora più di merda quando chi li utilizza non li conosce e non si preoccupa di specificare tanti dettagli allora ci sono 287 studi 287 studi di cui stiamo bassi il 95% di questi hanno utilizzato o solo o quasi solo il test di forza della presa isometrico per testare la forza e ora io già qua ti prendo sotto in macchina ma a parte questo praticamente nessuno si è preso la briga di specificare come è stato fatto questo test cioè mettiamo giù un cazzo di protocollo standardizziamo qualcosa sperami che tipo di apri che hai utilizzato dimmi come erano messi i soggetti ma li hai dati in mano te o se non sono sistemati loro ma erano seduti o in piedi ma era col braccio piegato o il braccio dritto alla mattina o la sera abbiamo preso il caffè o no hai capito tutte queste cose qua che sembrano puttanate ti garantisco che cambiano il risultato ma non è che lo dico io perché sono io e sono scemo c'è la ricerca già che lo dimostra adesso lasciando da parte tutte le persone che conoscono anche il training che sono qualificate che lo pratica che sono dentro quella nicchia che ci ridono sopra a sta roba qua perché dicono ma siete fuori per fuori però dico va bene è una roba di nicchia è una roba di pratica esperienza senza prove no ci sono io me li sono andati a vedere ci sono già decine di studi che mostrano che se tu fai il test così o così cambia che se tu fai il test col braccio giù o col braccio qua cambia che se tu fai il test alla mattina o alla sera cambia che se la mano è un po' più girata di qua o di là cambia che se tu hai soggetti glielo dai te il gripper glielo metti in mano e gli dici stringi oppure se lo appoggi sul tavolino e dici prendi in mano te sistematelo te come va bene poi schiaccia cambiano cioè tutte queste piccolezze ti cambia ma di parecchio ma di parecchio il risultato del test e se tu non lo sai perché non ti sei neanche posto il problema e fai 30 anni di ricerca su sta roba senza manco porti il problema e fai un test prima e dopo cioè cosa cazzo pensi di cioè quanto pensi che sia affidabile sta roba quanto sicura è niente tra l'altro come dicevo prima nella migliore dell'ipotesi la vitamina D se ti fa migliorare un po' la forza te la fa migliorare un pelino cioè qualcosa forse un po' ecco quindi cioè o migliora tantissimo cioè o diventi Hulk prendi la vitamina D due settimane dopo sei Hulk e allora vabbè vaffanculo tutto si vede subito che è cambiata la forza e la presa e è ragionevole pensare che sei diventato più forte ok? ma ma neanche sotto steroidi tu vedi una roba così non funziona così non lo puoi aspettarti che sta gente in qualche settimana abbia un miglioramento così grande e se il margine di errore di questi cazzo di test fatti così è 3-4 volte più grande di quello che è ragionevole aspettarsi come miglioramento della forza tu stai facendo una roba fatica per il cazzo non cambierai un tubo non misurerai niente la maggior parte degli studi trovano robe campate in aria uno dice una roba uno dice l'altro che infatti è quello che si vede perché dopo è in contrasto questo è l'enorme grosso grande gigantesco problema che nessuno giuro nessuno si è neanche posto di specificare di accennare di dire quando andava bene qualche autore nelle discussioni sotto diceva però forse boh non lo so ipotizzo magari il test di forza della presa non è così affidabile boh vediamo quando tra l'altro ripeto non è che uno deve essere dentro il creep training e essere super infognato questa roba c'è c'è già studi ma ce ne sono tanti che le hanno testate le hanno provate le hanno viste quindi c'è uno scrive un attimo si fa venire il dubbio boh anche nel caso in cui uno non ne capisca un cazzo di sta roba che non pensa non sa che magari fare il test così o abbraccio dritto o con la mano così o così cambi o che il momento della giornata cambi anche non sapendo un cazzo ti costava zero mettere sul paper e specificare due robe in più esempio il test è stato fatto alle 8 di mattina sia prima che dopo i soggetti erano a non so digiuno oppure era stato detto loro di sedersi comodi come preferivano e gli è stato detto semplicemente di stringere la mano come andavano meglio già questo avrebbe risolto mille problemi perché dopo chi lo legge capisce dice vabbè se lo sono fatti loro così oppure un altro studio legge che invece sono stati fatti i test in un altro modo e questo ti permette di capire magari perché uno studio trova un risultato un altro studio non trova un risultato ma qui nessuno ha scritto un cazzo perché non si sono neanche posti di problema perché perché è gente che di sta roba qua non sa niente non si interessa di un cazzo boh questa è una roba e già mi fa bestemmiare lo step successivo mi fa bestemmiare ancora di più perché anche ipotizzando che il il creep test sia perfetto funziona bene tutti sono stati bravissimi hanno scritto benissimo tutto protocollato tutto una meraviglia facciamo finta che sia così non è così ma facciamo finta da lì a dire che la forza isometrica della mia presa di una mano solo perché spesso lo fanno solo da un lato eh sia rappresentativo della forza massimale del tutto il mio corpo cioè ragazzi state facendo un'approssimazione enorme cioè vuol dire essere ingenui fuori di ogni portata perché nella migliore dell'ipotesi se uno passa da larva a Hulk lo misuri con la forza della presa e è ragionevole pensare che sia migliorata anche la forza in altre parti su un cambiamento enorme ma questa correlazione tra forza della presa e il resto del corpo io dopo sono andato a cercarmi ho andato se qualcuno gli interessa ci sono tutti i dati non è così marcata ma ne manco per il cazzo allora giustamente qualcuno dirà ma allora perché usano così tanto l'hand grip lo usano perché primo si sta veloci non costa un cazzo vabbè stringete qua buon segna giù ciao arrivederci risparmi un botto di tempo risparmi un botto di soldi e soprattutto non serve sapere un cazzo perché bisogna anche saperli fare gli esercizi saperli testare e ora siccome queste persone qua di solito non lo sanno è molto più facile dire alla gente stringi qua ma poi perché c'è l'assunzione di base che questo sia rappresentativo della forza del resto del corpo e vi dirò per essere del tutto corretti su alcune sottonicchie di popolazione è abbastanza rappresentativo della forza cioè su mio nonno moribondo con cinque patologie in letto dell'ospedale e gli dici stringi la forte qua la mano quello ti indice abbastanza di com'è il livello di forza generale e infatti da lì in un sacco di ricerca dice che la forza è la presa associata a questo alla densità ossea all'aspettativa di vita al rischio di questo al rischio di che altro vuol dire tutto un cazzo perché se uno è così moribondo che stringe meno sta di merda è ovvio se uno invece stringe più forte la mano stavo sempre parlando di ottantenni eh probabilmente è più attivo è più in salute è meno sacco penico mangia meglio magari ecco questo da solo spiega la maggior parte di questi dati ok ma non ci vuole essere super esperti di cripto training per capirlo se invece ti si può parentesi comunque non è una relazione perfetta eh cioè non è 100% sovrapposizione non è che tu riesci a stimare il 100% della forza non so del quadricipite semplicemente da un test della presa manco per il cazzo però ripeto su un vecchio eh abbastanza ok ma se ci spostiamo e prendiamo gente normale prendiamo gente sana prendiamo gente non dico ventenni ma anche gente di 40 anni questa relazione è molto più debole ma molto più debole non puoi permetterti di dire eh beh ha fatto il test della presa così allora avrai anche questo e questo e quest'altro con quel livello di forza ma manco per il cazzo ok e soprattutto se quella piccola differenza di di sovrapposizione tra forza della presa e forza del resto del corpo è più grande di quello che è il ragionevole aspettarsi come cambiamento di forza da un supplemento di vitamina D tu non vedi una cippa di un cazzo di niente o perlomeno è molto difficile essere sicuri che sia cambiato qualcosa e di averlo misurato perché c'è c'è non c'è non c'è abbastanza sicurezza che questo cambiamento eh di forza sia poi va bene ci siamo capiti dai uno step successivo quindi abbiamo detto che vabbè i test di i grip così i grip test sono di per sé un problema poi c'è l'approssimazione la generalizzazione che tanti autori hanno detto che davano per scontato che la forza della presa fosse rappresentativa del resto del corpo abbiamo visto che non è così nella maggioranza dei casi è un passaggio azzardato facciamo finta che anche questo sia vero è proprio è natale facciamo finta che anche questo sia vero che è vero che è il 100% precisa questa cosa qua curata affidabile eccetera il fatto che la tua forza massimale generale del resto del corpo sia migliorata non è automaticamente garanzia che migliori anche la prestazione sportiva che è quello che alla fine interessa la gente che vuole comprare il supplemento per migliorare le robe del suo sport ok la maggioranza del marketing e delle pubblicità eccetera su questi argomenti qui anche a livello libri accademici che si trova funzioni della vitamina D migliora la forza delle performance sportive wow 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 cosa? forse migliora in alcuni casi la forza isometrica della presa di mia nonna moribonda forse da lì a dire il giocatore di basket fa più canestri i ragazzi ce ne passano un miliardo di problemi purtroppo la maggior parte dei dati degli autori tutto quanto questi passaggi qua non sognano che posti il problema di specificarli di accennarli però sì ok un po' è migliorata la forza della presa però dopo da lì a fare gli altri discorsi attenzione ecco la maggior parte degli autori manco per il cazzo quindi io due due righe polemiche comunque le ho inserite sulla tesi due mail le ho mandate con tutta la diplomazia del caso però a parere mio per riassumere è importantissimo che nell'ambito nell'ambito di questo tipo di ricerche dove non è solo nutrizione è anche allenamento ci sia persone ci siano persone formate un minimo sull'allenamento da qui l'importanza di essere un pochino con entrambe le scarpe cioè una di qua una di là sui due mondi e capirci un pochino perché sennò ragazzi viene fuori una porcheria fine della polemica da ciò come concludiamo cioè cosa è ragionevole aspettarsi cosa consiglio di prendere l'integratore di vitamina D per migliorare la forza a uno che fa palestra fa peso dopo tutto sto tempo a bestemmiare questi argomenti qua vi dirò non mi è facile dare una risposta e non non sono sicuro però ipotizziamo un powerlifter ipotizziamo un bodybuilder ipotizziamo un 25enne sano che va in palestra e vuole fare prendersi l'integratore di vitamina D dico se io dovessi scommettere tutto quello che ho su un risultato io scommetterei che non cambia un cazzo ok se la persona a livelli veramente tanto bassi e per tanto bassi intendo tipo sotto i 20 sotto i 15 e ce ne sono eh le persone che le hanno così prendi un dosaggio alto per tre mesi rifai test dopo ti metti una dose di mantenimento eccetera secondo me nella migliore dell'ipotesi c'è un leggerissimissimo miglioramento ma è difficile da capirlo perché dopo nel frattempo tu fai anche la vita ti alleni fai altre cose quindi nella migliore dell'ipotesi forse forse un qualcosina minimo di miglioramento se la situazione era proprio disastrata in partenza e a dosaggi alti ma se dovessi ripeto scommettere tutto io scommetterai che non cambia un cazzo non peggiora ma neanche migliora consiglierei lo stesso di di prendere il supplemento sì consiglierei cioè consiglierei lo stesso di prendere il supplemento sì ma non per migliorare la performance consiglierei per le 47 milioni di altre funzioni che fa la vitamina D e per il fatto che probabilmente siamo abbastanza d'accordo tutti quanti di dire che se hai i livelli sotto i denti non è una buona roba per la tua salute probabilmente ti conviene stare a livelli più alti quanto più alti se ne può parlare è discutibile però molto probabilmente devi prenderti un dosaggio molto più alto di quelli che tendenzialmente sono consigliati e raccomandati perché con quei dosaggi lì non cambia la cippa di un cavolo se uno parte da sotto i 20 è facile che ti ci vogliano almeno 5, 6, 7 mila unità al giorno per svariate settimane per avere un aumento decente della vitamina D ma è soggettivo è proprio variabile fate le analisi prima prendete il supplemento partite con un dosaggio non esagerato quindi non so 5 mila al giorno partite con quello fate i test dopo un paio di mesi vedete che punto è se è salito e arrivato a un livello dignitoso e per dignitoso intendo tra i 50 e i 70 una roba media così allora probabilmente è stato sufficiente mettete via mantenimento dimezzate la dose mettete a 2 3 mila unità al giorno e vedete dopo 2-3 mesi se è rimasto più o meno lì ok quello è il mantenimento mai fate degli aggiustamenti d'estate cioè mai riducete un po' la dose d'estate e fine però nella maggior parte dei casi 3-4 mila unità sono quanto basta per star fermi ok per non peggiorare se dopo 2-3 mesi con 4-5 mila unità al giorno è salita poco un cazzo cioè siete passati da 20 a 27 ok allora dovete aumentare la dose dovete soprattutto se è restate dovete aumentare la dose personalmente adesso qua non prendetelo come consiglio medico però personalmente per quello che ho visto se uno parte a livelli molto bassi tipo 20 8-10 mila unità al giorno per un mese o due sono quello che serve per regolare mai a livello tipo 50-60 dopodichè dovete abbassarla la dose perché è una dose tanto alta non va tenuta così alta per tanto tempo rifate i test vedete qualche punto siete e casomai mettete una dose di mantenimento che in quel caso lì probabilmente sarà tipo 4 mila e stabilizzate e dopo fate un paio di test ancora più avanti nel tempo per vedere se effettivamente è rimasto stabile e a quel punto sapete i dosaggi di cui avete bisogno è importante sta roba qua giustamente perché non si facciano danni la vitamina D è liposolubile se accumulano i tessuti diventa tossica sopra una certa dose ok? non è chiaro a che punto è tossico di solito dicono sopra i 300 ma in realtà non è chiarissimo il livello in cui diventa tossica però inizia dopo a depositarsi calcio sui tessuti molli iniziano a farsi calcificazioni in giro cioè ci sono altre problematiche perciò non è una cosa da fare così a chiusi gli occhi ad occhi chiusi scusate prendere mega dosaggi se l'avrò bassa prendo il dosaggio che è alto perché no fate prima dell'analisi guardate a che punto siete partite con i dosaggi un po' più moderati e dopodiché casomai aumentate ma dovete ricontrollare periodicamente perlomeno all'inizio ovviamente prima di fare queste robe qua bisognerebbe essere seguiti un attimo da qualcuno se ci sono altre condizioni eccetera sentite il medico insomma eccetera piccola parentesi non sempre tutti sono aggiornatissimi su questa roba qua ancora adesso anche i casi di soggetti anziani osteoporotici con la menopausa eccetera queste cose qui danno ancora dei dosaggi a parer mio scandalosamente ridicoli perché basati su linee guida antirachetismo di 50 anni fa e quindi se avete una signora anziana in menopausa eccetera che tra l'altro sono le persone che più beneficiano dalla supplementazione mai fate una DEXA fate una dei sitometri osse eccetera per vedere salta fuori che avete osteoporosi mai vi siete fratturate facilmente più volte cadendo ecco e vi consigliano 400 unità al giorno cioè adesso ragazzi parlatene con il vostro medico io non mi permetto però è molto 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 probabile che quella dose lì non vi faccia un cazzo di niente che sia troppo poco ok ultima riga mi piacerebbe adesso io onestamente mi sono abbastanza fatto un'idea chiara di questo argomento però mi piacerebbe che in futuro facessero dei studi su sportivi su gente che fa palestra su a dosaggi un po' più un po' più alti prendi soggetto con valori di partenza molto basse e per 3, 4, 5 mesi dopo fai un controllo o hai dosi più alte mantenute alte per un certo tempo e vedere cosa cosa si ottiene con roba più realistica cioè gli fai fare la punk gli fai fare lo school gli fai fare roba del genere come test perché su questo tipo di popolazione giovane che fa queste cose qua ci sono tipo 3 studi su 287 e questi 3 studi tra l'altro non sono nemmeno concordi fra di loro perciò in realtà nonostante 30 anni di ricerca su quel tipo di popolazione lì non c'è tantissimo mi piacerebbe che in futuro fosse approfondito ma vediamo perché ovviamente è molto più urgente e interessante dal punto di vista medico mai sulla signora con l'osteoporosi giustamente e quindi lì c'è molto più materiale però da lì a generalizzare sul sportivo e di conseguenza quando compri l'integratore ti migliora la forza ti sale il testosterone tutte queste cose io non ci spunterei un centesimo detto questo ho concluso sono andato lunghissimo per chi è interessato alle robe di cui parlo vi riconsiglio Evelivo Powerlifting dalla teoria alla pratica su Amazon a 19 euro metto il link date un'occhiata al mio sito calabrettosimone.it c'è il blog c'è la sezione servizi sotto con tutte le consulenze le cose eccetera infortuni vuoi una consulenza sugli infortuni vuoi sapere come gestire la tua programmazione vuoi essere seguito per il coaching online vuoi semplicemente comprare una scala di un programma senza spendere soldi per il coaching c'è tutto date un'occhiata lì trovate tutto il sito powergear.it vi permette di comprare la trattatura da powerlifting ma non solo se inserite il codice sconto calabretto avete anche un piccolo sconto e con questo ho concluso vi ringrazio